L'ultima battuta L'ultima battuta la lasciamo a Frank, anche questo posto te lo chiedo sempre, ti ispira qualcosa? Tu che canti il sociale, canti la Milano che dovrebbe essere, quella per i giovani, quella per le prospettive Come avessi in passato con voi mi faccio un'istruzione e vedere tutto questo abbandono da parte dei comuni mi lascia sbarrogar Tra l'altro siccome questa puntata andrà in onda giovedì alle 19 sui nostri canali City Report Se vuoi dai anche l'appuntamento per la tua performance che farai con la Protetto il giorno 12 dicembre con la Protetto per l'evento luci di Natale Ok e noi saremo tutti con te, andiamo avanti Grazie a tutti Grazie a tutti